Domenica 24 la città di Pordenone ospiterà una tappa della staffetta Cremisi della Pace. Si tratta di un percorso in 11 tappe da Trento a Trieste, tra cui appunto Pordenone, che tocca alcuni dei luoghi di memoria più significativi della Prima Guerra Mondiale e contestualmente si celebra il centenario della traslazione della Salma del Militegnoto dal cimitero di guerra di Aquileia al Vittoriano in Roma. Il centenario del Militegnoto è il momento di chiusura di tutto un periodo di memoria che si è vissuto con il centenario della Prima Guerra Mondiale. Il Militegnoto è un qualcosa che proprio per volontà di un colonnello dei bersaglieri, Guido II, volle che fosse ricordato il sacrificio di tutti i soldati, anche di quelli che non avevano una targa o un nome. Ecco da dove nasce tutta l'epopea del Militegnoto. È una presa di coscienza della società, quindi un cambiamento, una rivoluzione, dove si riconosce per la prima volta il sacrificio di un soldato che cade in guerra. Il tutto in nome di un'entità nuova che viene riscoperta, un'entità che racchiude e unisce un intero popolo. Ad accogliere l'iniziativa l'assessore Walter De Bortoli che sottolinea come Pordenone sia una città fortemente legata ai bersaglieri. Abbiamo accolto con piacere questa iniziativa e sappiamo che ce ne saranno tante altre, ancora almeno un'altra sicura. Dunque saremo felici di ricevere questa manifestazione con il momento solenne dei cento anni, tanto della fine della guerra mondiale, che non è cento anni perché è finita nel 1918 e nel 1921. E poi perché la parte dei bersaglieri fa parte del Pordenone, la parte importantissima della nostra città e dunque noi siamo orgogliosi di averli e soprattutto anche di fare queste iniziativa che ricordano momenti tristi ma anche ricordi fondamentali per il nostro paese. Grazie. Grazie.